TGOD Buon Natale, delle belle feste, riposatevi state tranquilli anche al nostro Claudio siamo più buoni dunque quest'oggi facciamo gli auguri di buona Natale di buone feste a Claudietto a Marcella a tutta l'amministrazione a tutti quelli che abbiamo stuzzicato durante queste bellissime 40 stuzziceremo intanto vogliamo andare in pista alla nostra presidentessa i consigli auguri dal presidente Cari associati e amici dell'Opificio con questo videomessaggio colgo l'occasione per porgervi migliori auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo e ringraziarvi soprattutto per quello appena trascorso ricco di soddisfazioni Sono ancora commosso Davide Vabbè tante cose belle abbiamo passate insieme dopo il Vicio Zappa quest'anno e infatti volevamo farvi vedere un po' di retro scena un po' di bloopers bravo questo è il vilesismo possiamo vedere bellissima edizione del TGOs ma parliamo di meteo in compagnia di Pietro che la scorsa settimana è stato a Livigno e cosa ci racconti? buona serata innanzitutto buon pomeriggio rifacciamo dai ma parliamo di meteo in compagnia di Pietro buona sera buona sera buona sera eh l'abbiamo rifatta l'abbiamo rifatta non ci credo non ci credo tGOs in breve i titoli in breve i titoli ti prego fai si inizia a sta forr sembrava la battita di facebook parliamo di meteo in compagnia di pietro che recentemente bravissimo che è andato al niente e vaffanculo ferma 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 ma doveva entrare davvero il gervino delle ore un ottimo ma è affare in culo e andava bene però non sapevo più che cazzo dire pietro buongiorno allora questa è ancora la parte 3 su un claudio siamo alla 64 87 e si registra tra 3 2 1 tolivigno la prima la prima la prima notte mi dice sono contento che veramente siamo riusciti a a creare una vita e anche oggi il tempo di saluto ma con una sempre allegri bisogna stare perché siamo veramente contenti non ci resta che salutare come di consenso io saluto saluti e auguri di buone feste si a babbo natale e adesso punto saluto papa francesco io gentiloni e io mattarella capo dello stato salvatore l'azzulla e il grandissimo gianni morandi chiedo un risaluto ciao ciao a tutti buon natale buone feste ciao 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 ciao